A voi tutti una cordiale buona serata, ben ritrovati con Sanità Benessere Oggi. Do il benvenuto ai miei ospiti, il dottor Stefano Tassin, direttore scientifico del Gondola Medical Technologies. Buonasera, dottore. Buonasera, buonasera a voi. Chiara Previati, terapista della riabilitazione al centro La Panacea a Copparo, in provincia di Ferrara. Buonasera, grazie. Nel titolo abbiamo voluto riproporvi quello che è lo slogan di questa clinica svizzera che ha dato vita al dispositivo medico Gondola e quindi muoversi meglio per vivere meglio. Questo perché? Perché insieme agli ospiti questa sera lo scopriremo con il dispositivo medico Gondola associato ovviamente a disturbi del movimento, si torna davvero a vivere meglio. Come? Facendo quello che tutti i giorni siamo abituati a fare. Prima di tutto muoverci con serenità nello spazio insieme agli altri, avere la nostra socialità e le nostre piccole abitudini quotidiane che appunto ci aiutano ad avere una vita felice, perché no? Dottor Tassin, come è nata questa idea della Gondola? Lo ricordiamo sempre brevemente, ovviamente, perché ormai da tanto tempo ne parliamo. E davvero se questa qualità di vita può migliorare? Nasce dalla curiosità degli insuccessi terapeutici di altre terapie, come farmaci, come riabilitazione normale, come device per cercare di migliorare le bradicinesie. Nasce osservando cosa può succedere in un corpo se la malattia viene vista in modo diverso. Il nostro cervello ha una complessità incredibile di adattazione a una serie di eventi. Cosa è successo nel mondo del Parkinson in questo caso? È successo che abbiamo, i nostri avi hanno notato che il cervello di questi pazienti non funzionava bene. Non funzionando bene hanno provato a fare di tutto, elettroshock, buttarli giù dal balcone, cose di questo tipo che hanno avuto pochi risultati. Hanno notato che, essendo molto lenti, perché la malattia di Parkinson è una malattia della bradicinesia, cioè della lentezza del movimento, bisognava trovare il sistema di eccitarli. Da lì l'unico farmaco che è, dalla notte dei tempi, che esiste, che viene conosciuto da sempre, sono dei farmaci che creano una eccitabilità al cervello molto evidente. Nasce la dopamina, che in realtà è cocaina, dunque la notte dei tempi hanno scoperto questo. Poi con questa eccitabilità si sono resi conto che il paziente, se tu gli carichi di eccitabilità, il paziente si muove meglio. Questo è quello che ancora oggi succede a distanza di 80-90 anni, da quando si è incominciato a capire che bisognava curare la malattia di Parkinson. Da lì poi, nel corso degli anni, tutti hanno aggiunto un pezzettino di storia, cercando di migliorare la qualità di vita dei pazienti parkinsoniani. I pazienti parkinsoniani però, a un certo punto, dopo 4-5 anni dalla loro malattia, inceppano, entrano in disturbi molto più severi, che la dopamina, nonostante che possa dare una sorta di miglioramento, non riesce ad essere efficace per i grandi movimenti, ossia per il cammino, per l'equilibrio, per l'iniziativa motoria. La riabilitazione neurologica, nonostante che ci siano in Italia qualche migliaio di centri in neuroreabilitazione, dove il paziente viene inserito in questo programma di 4 settimane all'anno, non porta grandi miglioramenti. Spesso si sente dire che sono stati mantenuti certi miglioramenti, cioè certe performance sono state mantenute e non perse. In una malattia neurodegenerativa già questo potrebbe essere un successo. La cosa che nessuno ha mai fatto, mi permetto di dire questo, è alzare l'asticella da mantenere una performance a migliorare una performance. Gondola, cioè il dispositivo di cui ormai è noto, che ne parliamo spesso e volentieri in queste trasmissioni, è in grado di alzare l'asticella, cioè di far migliorare in maniera estremamente consistente la qualità di vita motoria dei nostri pazienti, riducendo addirittura il farmaco in maniera coerente e adattando la vecchia neuroreabilitazione fisioterapica a delle nuove strategie, che non sono strategie, ma sono dei nuovi metodi riabilitativi che prima non si potevano usare. Dunque, il paziente Parkinson è molto difficile di riabilitare nella sua forma tradizionale, ma se noi gli diamo un input cerebrale, dove svegliamo le aree motori e il paziente va verso il normale, la riabilitazione deve essere intesa quasi ortopedica, quasi come se un paziente fosse stato investito da un'auto e poi si riprende nel corso del tempo. Allora lì abbiamo veramente delle enormi chance di successo. Dunque, questo dispositivo, che tra l'altro le immagini dalla regia ci aiutano anche a conoscere dal punto di vista estetico e della sua struttura, che appunto sembrano essere due grandi scarpe, nelle immagini che vediamo è un po' la storia di quelli che sono stati i dispositivi. Eravamo nel tuo ambulatorio, Chiara, e ci hai fatto vedere proprio qual è stata l'evoluzione di questo dispositivo medico. Ecco, questo più o meno somiglia, o credo che sia, alla gondola che vediamo adesso in uso con i pazienti. E poi c'è un ulteriore sviluppo di questo strumento, che è il dispositivo professional, ovvero quello che viene anche dato in dotazione di alcuni ambulatori, che le persone possono decidere di utilizzare su appuntamento. Scopo invece, diciamo, della clinica svizzera è che ognuno dei pazienti, delle persone affette da Parkinson o altri disturbi del movimento, possa a un certo punto della propria vita avere il proprio dispositivo a casa per farne un utilizzo quotidiano, no, ma ovviamente al bisogno. Perché, ricordiamolo insieme, Chiara, questo dispositivo varia come modo di essere utilizzato da persona a persona. Assolutamente sì, ognuno ha le sue tempistiche, ognuno ha le sue reazioni, ha le sue reattività e di conseguenza il modulare, quella che è la frequenza di stimolazione e l'intensità della stimolazione è assolutamente personalizzato per ogni paziente. Non può essere standardizzato, ecco. Quindi, nell'evoluzione di gondola, che abbiamo visto il primo dispositivo e l'ultimo praticamente, che è la gondola 3.0, che è veramente stato il salto di qualità per noi come operatori, per poterla regolare il meglio possibile e nelle migliori condizioni possibili e per il paziente a casa, perché diventa davvero autonomo nel fare il trattamento. E lì ci vogliono proprio 5 minuti, 5, per poterlo fare. E anche la parte, diciamo, di istruzioni è abbastanza semplice. Assolutamente semplicissima. Chiedo alla regia se riusciamo a recuperarlo, poi ce ne accorgiamo strada facendo durante la trasmissione, avevamo anche un tutorial, dove appunto, in maniera molto semplice, si faceva capire qual era il corretto utilizzo e quali erano gli errori invece da non commettere. Se poi, insomma, questo lo vediamo anche proprio insieme all'operatrice che dimostra come si... Ecco, queste sono le immagini, quindi per esempio posizionarsi con lo strumento di fronte, non con lo strumento di lato, quindi avere in pratica le gambe parallele e non divaricate. Esatto, far passare il cavetto dietro perché altrimenti... Quella è la posizione corretta, dove il paziente deve posizionare ovviamente all'interno, qui fa vedere che il tallone rimane fuori e quindi in questo caso non è corretto l'utilizzo di gondola e quindi il piede deve essere assolutamente alloggiato e il tallone bene all'interno del... Ecco, come vediamo invece di questa. Esatto, questo invece sono le dita di rottura fuori, quindi lì il punto di stimolazione dell'alluce non verrebbe assolutamente stimolato. Non farle con i lacci aperti, cioè bisogna tirare la... Il laccetto, sì, da tenere il piede in una posizione più corretta in modo che non ci siano spostamenti durante l'utilizzo, quantomeno l'esecuzione del trattamento, questa qui è la posizione corretta. Corretta, quindi il piede è ben alloggiato, un laccio tirato... Esatto, il laccio tirato, il tallone dentro, la punta dei piedi all'interno del plantare e qui abbiamo la posizione assolutamente corretta del device e quindi siamo sicuri che la stimolazione venga fatta correttamente. E quindi sono istruzioni anche abbastanza semplici. Qui vediamo appunto le gambe davanti. Qui lo vediamo da davanti perché comunque ci deve essere un angolo di 90 gradi tra le ginocchia e qui fa vedere la posizione ovviamente dei piedi. Sbagliata. Sbagliata. Un po' a pato. Troppo avanti. Ecco l'angolo di 90 gradi. Perfetto. Questo è importante perché lasciare le gondole troppo aperte quindi la distanza giusta, corretta tra una gondola e l'altra è circa di 25 centimetri, grosso modo. Lo spazio di un'altra gondola. Ecco, per capirci. Questa è l'immagine che ne dà la giusta idea. Esatto, corretto. Quindi la stessa distanza ecco ci starebbe un'altra gondola in mezzo. È molto semplice anche da capire. Esatto, ovviamente tutte queste cose che nel momento in cui viene fatto il settaggio e viene fatta la configurazione personale del paziente viene istruito a dovere ecco su questa cosa ma è bene comunque ricordarlo. Però ecco sì, nella semplicità cioè non c'è nulla di impossibile da poter fare anche da soli proprio se non si ha un aiuto magari da qualcuno cosa che all'inizio era praticamente impossibile. All'inizio dovevamo istruire il caregiver a calzare correttamente il dispositivo a regolare correttamente le cinghie e così via. Quindi era un lavoro abbastanza impegnativo e soprattutto lasciava spazio ad alcuni errori di posizionamento e questo rendeva meno efficace il trattamento. Per fortuna sono state fatte le modifiche giuste e qui abbiamo il dispositivo che invece è diventato assolutamente semplice. Il plantare su misura che viene fatto con la scansione tridimensionale del piede è veramente efficacissimo perché impedisce di non... Di metterlo male. Esatto, di non metterlo scorrettamente quindi si infila proprio giusto giusto il piede e i punti cadono sempre di stimolazione dove devono essere... E' dolorosa questa stimolazione? Fastidiosa. Spieghiamolo questo fastidio però. Il fastidio deve essere tale per cui se io vado un po' oltre, sento male ma quello che è la mia percezione è qualcosa che è tollerabile. Lo sento ma è tollerabile e quindi è quella stimolazione che la sento, la percepisco per cui arriva direttamente al nostro cervello. Se è troppo debole non la percepisce e quindi non vale la pena non avrebbe l'efficacia che dovrebbe avere. Se è troppo forte rischiamo che... il cervello mette in atto una serie di strategie per cui non abbiamo lo stesso effetto che dovremmo avere quindi è come se annebbiasse quello che è la stimolazione. Quindi dobbiamo cercare proprio il giusto e corretta intensità di stimolazione in modo che arrivi al cervello nella maniera corretta e che questo elabori questa sensazione che non l'ha percepita non la percepiva prima e quindi è qualcosa che risveglia in un qualche modo queste aree che per mancanza del neurotrasmettitore ovviamente tendono a rimanere più rallentate e meno reattive fra di loro. Noi abbiamo sempre parlato nel corso anche delle puntate precedenti di una specie di coraggio a voler incominciare anche da parte di voi operatori queste strade, intraprendere ecco queste strade nuove e il dottor Tassini in questo è stato molto molto esaustivo ci ha spiegato appunto quanta difficoltà ci sia a far entrare un nuovo strumento in una che è diciamo una prassi un iter sempre uguale deciso, stabilito che dai suoi effetti si conosce tutto arriva la novità tu sei stata coraggiosa ti sei incuriosita ti sei interessata e hai cominciato a utilizzare gondola e che cosa è scattato dentro di te? Ma sarà perché io ho tutte le cose che sono nuove da provare, da vedere sono curiosa ecco di capire se ci può essere effettivamente la risposta e il risultato è bello e quindi quando ho visto il risultato dal vivo la prima volta che quindi ho capito che non era una insomma una cosa così uno scherzo o un gioco o un gioco ma di fondo c'era qualche cosa che veramente poteva essere innovativo e poteva dare un qualcosa un cambiamento di quello che potevano essere le prassi normali nei trattamenti fisioterapici un aiuto in più mi sono messa in gioco ovviamente sono andata bene perduta adesso sei un punto di riferimento almeno per l'Emilia Romagna io credo di poter dire che il centro di Copparo sia l'unico centro al momento con il dispositivo gondola non è una cosa semplice cioè è un qualche cosa che bisogna un attimo sprecarsi nel senso che bisogna studiare bisogna mettersi lì bisogna capire un attimo quello che è anche il mondo del Parkinson perché il mondo del Parkinson è veramente una cosa ampia ampia e con 3000 sfaccettature quindi non è uno più uno che fa due è uno più uno che forse fa zero forse fa cinque forse fa tre e quindi lì bisogna mettersi in gioco proprio a livello professionale e dire ok io ho questo strumento fa questo devo riuscire a trasmetterlo e a darlo al paziente volta per volta nel suo modo di vedere nel suo modo di fare perché purtroppo il mio modo è il mio modo ma è da operatore ma il paziente è un paziente che ha tutta un'altra storia ha tutto un altro vissuto per cui trovi la persona che è più predisposta a questo trovi la persona che è più ostica nei confronti di queste cose trovi la persona che la capisce subito e trovi la persona che invece ci vuole un pochettino più di tempo a capire come fare di interagire o come fare sfruttare quello che gondola da offre come miglioramento e come risultato quindi questo è il grosso lavoro che dobbiamo fare noi operatori capire ti ricordi ancora il primo paziente la prima persona che ha usato gondola insieme a te sì 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 fu un signore di no era è stato un signore di Copparo sì è stato proprio un signore di Copparo che fu uno dei primi a prendere gondola perché la conoscevo o perché gliene hai parlato no perché gliene ho parlato io perché era eravamo conoscenti tramite amici ecco così quindi quando mi era stata proposta mi era stata proposta di cominciare di dispositivo e allora gliel'avevo parlato ma dai vieni vieni a provarlo insomma avevamo insistito sia io che sua moglie perché lui era molto restio e e poi alla fine alla fine l'ha acquistata e l'ha utilizzata per diversi anni ecco insomma ecco noi ovviamente come mezzo di comunicazione cerchiamo di entrare nelle case cerchiamo di raccontare di far vedere ma quello che davvero fa la differenza tra il prima e il dopo è vedere una persona che lo ha provato quindi in questo io approfitto anche di questo spazio televisivo per invitarvi a mandarci le vostre testimonianze se siete pazienti di Chiara potete anche venire a trovarci perché insomma ci fa piacere avervi qui ospiti perché a casa i racconti di una persona possono aprire più brecce di quelle che possiamo magari aprire noi con dei discorsi scientifici o ben articolati vederlo è tutta un'altra cosa grazie intanto ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria ma restate con noi perché abbiamo ancora tanto di cui parlare eccoci dunque rientrati in studio stiamo parlando del dispositivo medico gondola lo stiamo facendo insieme alla direttore scientifico del gondola medical technologist di Lausanne dottor Stefano Tassin e la fisioterapista riabilitatrice Chiara Previati centro alla panacea di Copparo lo ricordiamo perché mi piace ricordarlo perché è il centro più vicino a noi a chi ci ascolta nell'Emilia Romagna per poter davvero avere una prima visita una prima esperienza con questo dispositivo che abbiamo detto legato intanto al Parkinson ma non solo dottor Tassin infatti questo non solo apre altre finestre quali? ma sicuramente l'ictus ci sono tantissime altre malattie di sottospecie che ce ne sono poche a volte rare ma sostanzialmente il messaggio più importante è l'ictus l'ictus chiunque di noi l'ha visto qualcuno perché ce ne sono circa 25.000 casi al giorno di eventi schemici di cui una parte di questi 25.000 che si risolve da sola una parte che danno dei danni permanenti e un'altra parte che purtroppo l'evento è stato talmente grande che il paziente non ce la fa per i pazienti che rimangono con questa emiplegia dunque questa paralisi monolaterale o destra o sinistra la vita non è facile quello che è sotto gli occhi di tutti è un paziente sano che a un momento arriva arriva a questo colpo questo stroke questo ictus si paralizza fa un piccolo periodo di tempo in quelli che vengono chiamati stroke unity cioè i centri che servono per osservare il fenomeno dell'emorragia per tamponare il fenomeno dell'emorragia e per stabilizzare il paziente normalmente è in coma farmacologico in questa prima istanza dopodiché si sveglia l'istanza di 8-10 giorni poi dipende da paziente a paziente dall'evento e in giro di poco vengono trasferiti in questi reparti di neuro-riabilitazione neuro-riabilitazione incominciano appunto il loro percorso per potersi riabilitare la neuro-riabilitazione nonostante che gli operatori siano molto bravi ma non hanno nelle mani degli strumenti tali che gli permette di attivare velocemente le aree che sono colpite e questo è un grande handicap perché più tempo passa senza riuscire a farli muovere più si organizza si cronicizza scusatemi si cronicizza il problema noi sappiamo molto bene che nell'arco di 4-6 mesi il paziente può avere dei miglioramenti anche in regime autonomo dopo circa 6 mesi tutto quello che tu hai ottenuto da questo paziente è quello che rimarrà la riabilitazione a quel punto non sarà per migliorare ma per mantenere le performance che il paziente ha riacquisito in questi 4-6 mesi è una vita molto difficile e anche abbastanza poco bella per l'operatore perché non avendo la possibilità di vedere e migliorare in maniera sensibile cerca delle astuzie come una delle prime cose che si cerca di fare è stabilizzare il paziente e dunque riportarlo in posizione eretta vengono utilizzati una serie di presidi dunque di ambulatori cose di questo tipo si cerca di riportare il passo dell'arto colpito cercare di fargli rinsegnare i passi ma tutto questo a volte diventa molto difficile nonostante la grande e la buona volontà degli operatori e siccome che è difficile passa del tempo passa del tempo diventa sempre più difficile noi con una grande esperienza nel mondo del Parkinson abbiamo portato questa stimolazione che è molto simile anche se diversa in certi aspetti nel mondo dell'ictus e abbiamo notato che già dalla prima stimolazione noi siamo in grado di migliorare il 70-80% in più rispetto a quello che normalmente viene ottenuto in sei mesi 70-80% è tantissimo è tantissimo dunque il paziente che dopo 4-5-6 mesi di riabilitazione non è ancora in grado di rimanere in piedi perché magari l'arto è l'asso perché esistono due tipi di problematica un ipertono dunque la gamba molto rigida per intenderci dove il paziente non è in grado di piegarla per fare il passo dunque deve falciare e l'altro che è peggiore è la lassità cioè un conto è rigido bene o male in piedi ci stai ma se è l'asso nel momento in cui ti metti in piedi cedi ecco nella nostra grande esperienza anche sull'ictus già dalla prima stimolazione se parliamo di una gamba lassa il paziente riesce già dalla prima stimolazione a mantenerla rigida incredibile è incredibile è fantastico è veramente stupendo perché puoi scrivere delle nuove pagine di neuro-riabilitazione post-gondola per l'operatore diventa fantastico perché gli dai poi ampia altro materiale per lavorare e soprattutto mettono in atto i loro protocolli che non possono mettere in atto un quel paziente molto problematico immagino anche gente giovane perché ricordiamo che insomma l'evento ischemico può colpire a qualsiasi età mamme con bambini eccetera noi di testimonianza tra l'altro ne abbiamo anche ricevute in questi anni e quanto sia importante ritornare ad avere la propria autonomia autosufficienza e possibilità di muoversi accudire o gli operatori nel mondo degli ictus hanno fatto dei salti da gigante secondo me per quanto riguardano le lesioni lievi ossia hanno messo a disposizione con la loro conoscenza delle piccole strategie per migliorare dei pazienti che hanno proprio delle leggere problematiche motorie evidenti dunque la gamba che tende a falciare leggermente delle strategie secondo me molto intelligenti dove possono migliorare ahimè però se il problema è un po' più serio queste strategie non funzionano perché non sono nell'area giusta per poterle far utilizzare e quei pazienti lì che sono veramente tanti vengono poi per seconda intenzione abbandonati quindi non si prova neanche più a recuperare non si prova più perché tanto il risultato è assolutamente molto limitato il paziente rendendosi conto che non può migliorare che non riesce a migliorare abbandona abbandona le armi e li diventa un po' una catastrofe ecco siete riusciti a inserire il dispositivo gondola nelle unità operative sugli ictus no perché allora a livello di test sì mi viene in mente Parigi mi viene in mente un sacco di pazienti di Parigi con una bravissima dottoressa che è il primario della neuro riabilitazione dove era rimasta folgorata da gondola sul vedere quanto possono migliorare i loro pazienti abbiamo scritto un po' di letteratura non tantissima perché comunque la letteratura sugli ictus non è facile perché è una sfera della neurologia dove c'è tantissima gente in quella sfera intendo dire anche a livello economico perché dietro una paralisi si nascondono carrozzine elettriche barriere architettoniche tutta una serie di cose che tanta gente ci lavora dietro questa situazione e nonostante gli enormi miglioramenti e soprattutto la velocità di miglioramento non se ne parla non se ne parla e questa è un po' una spada di damo perché penso che se lei parlava di 70-80% di recupero dopo quei sei mesi di nulla bravissima se noi prendiamo per essere un po' più chiari se noi prendiamo un paziente di pari età con un evento ischemico simile il paziente con tutte e due sto parlando di pazienti lassi che sono molto peggiori dopo sei mesi di riabilitazione gli operatori del settore avranno provato a mettergli sicuramente un tutore al ginocchio per farlo rimanere in piedi e più che altro la stabilizzazione del paziente in posizione retta dall'altra parte lo stesso paziente che viene fatto già dalla prima stimolazione rimane in piedi da solo e abbiamo sei mesi di tempo per recuperare il resto quello che mi chiedevo è tantissimo l'interesse è limitatissimo l'interesse è limitatissimo si fa molto è molto difficile capire la motivazione perché di fronte a un cambiamento così importante dovremmo essere un team tutti insieme e dovrebbero essere gli operatori stessi guardate questo signore qua quel signore che avete appena visto è lì a Parigi quel signore lì in realtà è un ragazzo perché ha circa una quarantina d'anni come lo vedete prima quello che hanno ottenuto loro dopo quattro mesi di neuro-riabilitazione quindi lo vediamo ancora col bastone è quello subito dopo la terapia gondola fatta lì in gate analysis dove era mamma in quel momento quella professoressa che vedete di fianco era la sua professoressa questa donna molto 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 capace nel mondo della neuro che è rimasta folgorata dicendo ma scusami sei mesi fa noi ci abbiamo messo quattro mesi a farlo camminare così tu arrivi fai una stimolazione e ci cammina già in autonomia potete vedere che non c'è il bastone non è più il bastone questo è quello che succede unendo questo tipo di stimolazione a tutta una serie di piccoli accorgimenti che quando cammina così si possono tenere in atto il paziente migliora in maniera incredibile anche perché poi ci mette del suo sapendo che giorno per giorno andrà meglio avrà un miglioramento io mi ricordo ancora la testimonianza di una mamma non so se la regia riesce a recuperarla ma non importa la prima testimonianza era a pochi mesi dall'utilizzo di gondola la seconda testimonianza che mi mandò era dopo altri mesi ma ci teneva a far vedere quanta differenza in quegli altri pochi mesi c'era stato nel suo ossa per fare le cose quindi si alzava dalla poltrona si risiedeva andava a prendere un oggetto lo riponeva cose che a noi possono sembrare banali ma che lì era diventato un mezzo miracolo in quella famiglia tenga considerazione che io ho dei casi estremamente eclatanti che mi capita di osservare anche con Chiara con i vari operatori che vedo come erano mi fanno vedere i video di come sono oggi abbiamo un altro problema che è veramente amaro che quando questi video vengono visti magari dal personale medico settoriale una parte di questi non ci crede e una parte di questi dice ci sono nell'album delle possibilità la possibilità che il paziente possa essere migliorato da solo questa cosa qua la sento dire 10 volte su 20 quindi c'è ancora un'enorme ignoranza il vero problema di questa ignoranza che io lo posso anche comprendere perché uno non può sapere tutto è il non volere avvicinarsi a questo tipo di terapia una parte di me vuole pensare che ci sono dei motivi diversi che io non conosco e un'altra parte di me invece è sempre più convinta perché si è creata una bicicletta di situazioni certo quello che dicevamo un po' prima quindi esce fuori ci sarà il tecnico ortopedico che dovrà fargli delle protesi perderlo ogni 6 mesi ci sarà quello che gli porta la carrozzina elettrica ci sarà il muratore che gli farà la barriera architettonica ed è un settore dove non se ne esce è un settore dove non se ne esce i nostri pazienti che vengono da noi che ringraziano di aver conosciuto Gondola sono pazienti che sono arrivati da noi casualmente e alla domanda principale del tipo ma gliel'hai detto al tuo medico che stai venendo no no ci mancherebbe altro ecco quindi questa paura di dire c'è ancora questo pensiero che Gondola sia Gondola è un dispositivo medico dunque le persone che dicono che non è così si fanno uno sbaglio molto grande dunque quando vengono negli ambulatori come quello di Chiara non stanno andando dagli sprovveduti stanno andando dalle persone altamente qualificate vogliamo approfittare anche mi scusi se la interrompo ma per me è importantissimo dire a casa come fare per entrare in contatto diretto con voi con la clinica Milano o direttamente con Chiara perché appunto in un caso in cui i familiari o la persona stessa decida di prendere la situazione in mano e decidere da se stesso posso permettermi di dire così dottor Tassin può farlo e quindi 02 970 70465 segnate questo come unico numero di telefono utile e indispensabile per il primo passo parliamo di movimento quindi il primo passo davvero in tutti i sensi fatelo mentale e poi vedrete che insomma la vita come abbiamo voluto scrivere nel titolo a chiare lettere migliorerà perché vivere bene si si può fare ma se ci si muove bene allora anche la vita è migliore questo è il centro di Milano l'elenco completo dei centri è sul sito di gondolamedical.com e quindi Chiara anche all'interno del tuo centro in autonomia o su indicazione del medico possono recarsi persone che hanno subito un evento ischemico e ti sarà capitato sì 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 ci sono e il risultato è diverso rispetto a quello del Parkinson sì nell'ictus mano mano che tu fai la stimolazione c'è sempre un guadagno su quello che è la disabilità che aveva all'inizio e quindi è un lavoro costante nel tempo che ci porta ovviamente dei risultati che vanno increscendo a differenza del Parkinson che invece è tutto subito e essendo una malattia di tipo degenerativo comunque cerchiamo di mantenere il più stabile possibile nell'arco del tempo l'ictus essendo un evento è quello il danno e da lì si parte per recuperare quindi cambia nettamente anche l'aspettativa e cambia anche quello che è il lavoro che andiamo a fare successivamente alla stimolazione la stimolazione ci permette di recuperare con gradualità penso anche all'enorme differenza da parte della persona che dal giorno alla notte se posso dire così si trova davanti alla perdita delle proprie capacità mentre un Parkinson va un po' gradualmente peggiorando e abbandonando sono proprio due cose che sono all'opposto quindi anche lavorare mentalmente su queste persone sarà un po' più faticoso è completamente diverso anche se diciamo gli aspetti comunque della disabilità accomunano un po' tutti però diciamo sono due cose completamente diverse da una parte c'è lo shock esatto e quindi c'è una situazione dove hanno anche la prospettiva di poter recuperare in un certo modo sperando con una certa velocità ovvio che dipende sempre da tanti fattori prima arrivano e meglio è perché più noi abbiamo la possibilità di dare modo di recuperare il meglio possibile ovviamente anche ciò non vuol dire che chi ha avuto ictus da tantissimi anni non abbiano comunque l'opportunità di recuperare recupereranno in un altro modo in un'altra forma in un'altra maniera cioè nel senso con una gradualità diversa che ovviamente resta sempre quel margine di guadagno resta sempre quel margine di guadagno non è che perché gli è successo cinque anni fa che la gondola comunque non gli possa dare una possibilità di migliorare o quantomeno di migliorare qualcosa in più è diverso ovviamente ci aspettiamo anche un recupero diverso rispetto a quello che ha avuto lo stroke recentemente però ci dà quel qualcosa che possiamo andare a provare di recuperare il resto sempre accesa quella speranza esatto 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 nella maggior parte dei casi succede ecco insomma ovvio anche qui volontà del paziente dipende ovviamente dal danno che è stato subito da quello che ha fatto anche il paziente nel lasso di tempo anche per recuperare via discorrendo però abbiamo sempre un margine di recupero di miglioramento ecco del paziente da stabilire ovviamente caso per caso perfetto ovviamente siamo stati in grado di dare un po' un quadro generale di quello che gondola è in grado di fare in quali casi come e quanto in quanta misura ovviamente poi ogni persona è diversa quindi il mio invito è quello di provare se siete in una di queste situazioni che abbiamo raccontato e non lasciare mai nulla di intentato ancora una volta invito da casa chi volesse mandarci la propria testimonianza perché davvero per noi è importantissimo e poi raccontarsi il raccontare la propria esperienza accende sempre quella speranza nell'altro che sta ascoltando grazie dottor Tassin grazie Chiara come sempre grazie a voi di essere stati in nostra compagnia io vi ricordo che tutte le puntate di Sanità Benessere Oggi voi le potete ritrovare sul canale YouTube di Telestense e ovviamente potete seguirci comodamente anche attraverso la nostra app per smart tv e dispositivi mobili con questo è tutto io vi saluto vi do appuntamento al prossimo venerdì arrivederci a presto